Ciao a tutti e benvenuti su questo canale dove parlerò di tarocchi, chakra, creatività e quant'altro possa aiutare ognuno di voi nel percorso di crescita personale e spirituale. Oggi vedremo la lettura per il segno del toro per la seconda metà del mese di settembre. Vi ricordo comunque che sono letture di tipo generale, potrebbe essere che non tutto risuoni con voi, voi prendete quello che sì e quello che no, semplicemente lasciatelo fluire all'universo. Questa lettura può applicare per chi ha il toro nel proprio sole, nell'ascendente, nella luna o venere. Ma andiamo a vedere quale sarà l'imprinting generale della lettura. Vediamo un po'. Una carta per piacere, grazie. Pienezza. Allora, questa carta mi parla di quello che è un inizio, di quello che è un inizio di un percorso probabilmente, l'inizio di una nuova strada. Potrebbe anche essere un inizio arrivato come dono, cioè un qualche cosa che arriva dall'alto, un qualche cosa che noi magari non ci aspettiamo e in qualche modo ci si apre la strada per un qualche cosa. Andiamo a vedere un attimino le energie generali per la seconda metà di settembre e vediamo cosa ci raccontano i tarocchi. Ok. Andiamo un po' a vedere. Allora, re di bastoni, due di bastoni. Qui c'è una persona, che è molto strutturata nella sua posizione, nel suo potere personale. Scusate, mi sono cadute due carte, devo recuperarle un attimo. Allora, fante di coppe, due di spade, fante di spade, nove di spade, ve l'esposto un po' così si vedono meglio. Guardate, con questo due di bastoni è come se ci fosse un guardare al futuro, un pensare ad un eventuale progetto. E con il fante di coppe mi viene proprio da dire che per qualcuno potrebbe essere quello che è l'amore. Nel senso che qualcuno sta guardando l'amore e lo sta aspettando. Voi siete molto stabili nella vostra posizione, probabilmente avete anche un lavoro, diciamo, di tipo, appunto, stabile. Avete comunque il vostro giro di amicizia e siete in una posizione dove state bene in questo momento. Ma pensate, continuate a guardare per quello che è, quello che potrebbe essere, diciamo, un amore, un innamorato e probabilmente questo potrebbe essere una persona già che avete in mente, ok? Ma vi dirò di più, c'è anche questo fante di spade, quindi potrebbero tranquillamente essere due persone. So che la prima stesura normalmente la faccio in generale, ma io leggo quello che vedo, quindi qui mi parla già di amore. Però se non fosse l'amore, se fosse per esempio per un progetto o per un lavoro o qualsiasi altra cosa, potrebbe essere che ci sono queste due energie, ambedue comunque di tipo immaturo, di tipo acerbo, diciamo, dove voi avete bisogno di effettuare una scelta. Avete un dubbio comunque, c'è qualche, la figura ha la benda sugli occhi, quindi c'è qualche cosa comunque che non si vede, c'è qualche cosa che non viene a galla e voi avete bisogno di, appunto, effettuare una scelta tra il fante di coppe e il fante di spade, che potrebbe essere un progetto di un tipo e un progetto di un altro. Sicuramente questa situazione non è una situazione semplice, non è una situazione, diciamo, di tipo leggero e potrebbe portare molti pensieri, molte preoccupazioni, addirittura per qualcuno potrebbe anche essere ansia. Quindi il consiglio che vi danno le carte è l'appeso, cioè cercate di vedere le cose da un altro punto di vista, cercate di un attimino prendere distanza dalle vostre emozioni, dai vostri pensieri e di valutare le cose in modo obiettivo. Però per il momento, mentre voi fate, diciamo, queste valutazioni, un po' così, non fate niente, cioè semplicemente prendete tempo, ok? Voglio vedere questo 2 di spade. Allora, per spiegare, il re di bastoni è uscito il papa, per spiegare il 2 di spade sono uscite la stella e la temperanza. La stella e la temperanza, cominciamo con questo. Allora, sicuramente questo re di bastoni è una persona colta, che comunque ha raggiunto un certo tipo di elevazione spirituale, è una persona che dal canto suo sa come girano le cose, è una persona che in un certo senso è anche, vincolata non è la parola giusta, però soggetta, ecco, ai canoni della società, a quello che è, quello che la società richiede, diciamo, nel vostro momento di vita. Questo 2 di spade, che sarebbe un po' la scelta, il bivio davanti al quale voi vi trovate, mi viene spiegato dalla stella e dalla temperanza, che sono due carte di equilibrio, di guarigione, sono due carte positive comunque, molto positive, che mi parlano di un'energia molto forte, che mi parlano di quello che è il portare pazienza, di quello che è la guarigione interiore, mi parla, mi parla anche di guarigione interiore, mi parla di dare, mi parla di acqua fondamentalmente, di emozioni, e l'acqua se vedete c'è in tutte e tre le carte, l'acqua è collegata con quello che sono le emozioni, i sentimenti, quindi sicuramente qui c'è qualche cosa da equilibrare da un punto di vista emotivo. Volevo solo più vedere il 9 di spade, una carta per il 9 di spade, per favore grazie, il cavaliere di coppe, probabilmente questo cavaliere di coppe, questa persona che viene offrendovi questa coppa, vi fa venire un po' di ansia, vi preoccupa un po'. Mi viene da dire che per qualcuno è difficile accettare l'amore, è difficile ricevere proprio, quindi bisogna fare un lavoro e imparare insomma ad accogliere anche quello che gli altri ci vogliono offrire. Bene, ma andiamo a vedere nello specifico l'amore per il segno del toro per la seconda metà di settembre 2021, anche se forse una prima occhiata l'abbiamo già dato nella lettura di prima. Allora, vediamo cosa ci dicono i tarocchi per quello che riguarda l'amore in generale per la seconda metà di settembre. 5 di bastoni, la regina di coppe. Allora il 5, 2 di pentacoli, allora il 5 di bastoni mi parla, 7 di coppa al contrario, mi parla comunque di conflitti, conflitti interiori, il mago e gli amanti, di conflitti interiori piuttosto che di concorrenza, ma comunque sono conflitti che se non sono diciamo di tipo interiore potrebbero essere con una cerchia di amici, con una cerchia di persone che ci sta vicino. Scusate, se sentite il rumore è il gatto che sta cercando di entrare. Non so se si sente che sta miagolando anche. Quindi sicuramente c'è qualche tipo di conflitto, ma vedo che comunque con la regina di coppe siete molto in connessione con quelli che sono i vostri desideri, con quello che sono soprattutto le vostre emozioni, quello che è giusto per voi e quello che sentite. Vi piacerebbe forse anche in un certo senso con il 2 di pentacoli riuscire a prendere le cose un pochino più a leggere, a riuscire... Per qualcuno il 2 di pentacoli rappresenta i cicli karmici, quindi potrebbe essere che in qualche modo vi ritroviate sempre nella stessa dinamica, ok? C'è il bisogno di uscire da questa trappola, se vogliamo. Vedo che per qualcuno c'è molta indecisione. C'è un'indecisione su quello che sono le possibilità. Il 7 di coppe mi parla di possibilità, mi parla di tante occasioni, diciamo, ma è al contrario. Quindi è come se ce ne fossero troppe e non fossero neanche forse di tipo troppo concreto. È come se si vedessero o non si vedessero queste possibilità o si sprofondasse nel... Oh mamma, che cosa scelgo? Non lo so. Cose di questo genere. Ci sono queste possibilità che ci mettono un po' in difficoltà. Con il mago a rovescio e gli amanti anche a rovescio è un po' come se non stesse arrivando quello che voi in realtà vi aspettate. È l'imperatrice, l'ultima carta. È un po'... Allora, questa è la carta degli amanti che è venuta girata al contrario. Quindi è come se non ci fosse esattamente una manifestazione per quello che riguarda quello che volete voi in una coppia. O direttamente come se in questo momento i vostri pensieri non fossero esattamente focalizzati su quello che è l'amore, la coppia. Anche perché giustamente gli amanti al contrario mi parla o di una scelta che non viene fatta o di una connessione che... Diciamo che è nell'aria ma fisicamente non è ancora arrivata. Ma comunque con la carta dell'imperatrice alla fine della lettura io vedo che c'è un'abbondanza, vedo che c'è comunque una creazione quindi qualche cosa si andrà a dare. Voglio solo spiegare un attimo il mago a rovescio e mi viene spiegato dall'eremita e dalla morte. Dunque, sì è chiaro, l'eremita è una persona solo, un ricercatore. E' una persona che cerca di fare una propria crescita spirituale, no? Mentre con la morte abbiamo una rinascita. La morte di un qualche cosa di precedente per dare spazio a un qualche cosa di nuovo. È la chiusura di un ciclo e l'inizio di un altro. Ma con il mago a rovescio è come se non si volesse fare il passo. E infatti anche gli amanti che mi parlano di scelta potrebbe tranquillamente essere che non si vuole interrompere qualche cosa o non si riesca a interrompere qualche cosa, diciamo. Che in questo caso potrebbe essere anche uno stato di single. Magari è da tanto tempo che siete single e non riuscite in qualche modo a sganciarvi da questa posizione perché o state troppo bene così o avete paura, no? Di soffrire di quello che è, quello che può avvenire. Comunque c'è una... C'è proprio un... Non mi piace dire blocco, però è con un ristagno dell'energia, di questa energia di manifestazione di cui mi parla il mago. Andiamo a vedere un attimo gli amanti. Cosa mi vogliono dire gli amanti al contrario? Un attimino solo che mi è caduta la carta. Gli amanti al contrario mi vengono spiegati dalla regina di spade. Sì, probabilmente, guardate, sento che per qualcuno c'è un forte, diciamo così, attaccamento a quello che sono le idee di una coppia. È un po' come se ci fosse questa idea standard di come deve essere... di come si deve sviluppare, diciamo, una relazione. Quindi, non lo so, prima gli appuntamenti, poi do punto di appuntamenti il bacio, poi do punto di appuntamenti... Ecco, è come se ci fosse una specie di incasellamento, di struttura mentale che voi date, no? Ancora una carta per spiegare gli amanti, per piacere, grazie. Sì, c'è una sorta di, diciamo, rigidità. E il cavaliere di coppe. Sì, è un po' come se... Ok, la relazione deve andare avanti poco alla volta, mentre magari ci sono relazioni cosiddetti colpi di fulmine che sono un turbinio di emozioni senza una reale spiegazione logica. Quindi, sì, e vedo che c'è un po' di conflitto, di bisogno, come dire, di questo... È come se ci fosse bisogno di ammorbidire le vostre idee nella mente. Voglio ancora estrarre una carta. da questo mazzo, per vedere che altro consiglio vi arriva. Una carta, per favore, grazie. Queste sono troppe. Una sola. Allora, qui mi parla della dell'Ave Fenix. Anche qui mi parla di una nuova fase, di una trasformazione, di quello che è una crescita, un rinnovo. E mi dice anche Changed Minds. Cioè, cambiare la mente che cambia, insomma, una mente cambiata. Quindi, ecco, anche questo discorso del del plasmare, del rendere flessibili le idee che voi avete per quello che riguarda la struttura, diciamo, di un... di una relazione, ecco. Bene, questo è quello che ho per voi, amici del toro. Spero che in qualche modo i messaggi vi abbiano potuto aiutare a capirvi meglio, capire la situazione. Se sì, mettete un like, iscrivetevi al canale e condividete. E noi, ci vediamo presto. Ciao, ciao.